Un altro duro colpo allo spaccio di droga. Alle prime luci dell'alba, i carabinieri della compagnia di Fano, con il supporto dei colleghi di Rimini e Monza e il personale del nucleo cinofili di Pesaro, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di diverse misure cautelari. Sette persone sono state arrestate, mentre altre 15 denunciate. Salgono così a 14 gli spacciatori, di cui 12 di Fossombrone, finiti in manette nell'ambito di un'indagine, avviata dai militari due anni fa. All'alba di stamane abbiamo dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare, sono otto le misure, disposta dal GIP presso il Tribunale di Urbino, su richiesta del procuratore della Repubblica, sempre di Urbino. Gli arresti sono sette, tre in carcere e quattro i domiciliari, nei confronti di soggetti sia italiani, albanesi e marocchini, ritenuti responsabili tutti a vario titolo di detenzione di fini di spaccio in sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, nonché di un furto ai danni di proprietari di alcune slot machine di un bar di Fossombrone. L'indagine era partita nell'aprile 2018 dagli atti intimidatori ai danni di un'officina fabbrile di Fossombrone e del suo titolare, che aveva precedenti per uso di cocaina. I militari avevano scoperto non solo che l'autore di quegli atti era un suo ex dipendente con il quale aveva avuto diversi dissidi, ma anche che l'artigiano aveva dei contatti con il gestore di un bar del posto, al quale ordinava stranamente delle birre che poi passava a ritirare in prima persona o tramite uno dei suoi operai. In realtà si trattava dello spaccio di cocaina e marijuana con due distinti filoni che agivano in parallelo. Uno faceva capo ad un soggetto già noto alle forze di polizia, di origini salernitane, ma residente da Agna Fossombrone, mentre l'altro vedeva capo un albanese artigiano edile residente nello stesso comune. Entrambi fungevano da grossisti per altri pusher del luogo. Il grosso della cocaina, fino a mezzo chilo per ogni viaggio, veniva acquistato da due albanesi residenti nelle province di Rimini e Forlì e anch'essi colpiti dall'ordinanza di custodia cautelare. La droga acquistata all'ingrosso arrivava ad essere pagata fino a 20.000 euro per mezzo chilo, mentre le singole dosi venivano vendute a 100 euro al grammo. Tra i comuni interessati dagli spacci al dettaglio, oltre a Fossombrone, Rimini e Forlì, rientrano Fano, Pesaro, Acqualagna, Fermignano e Cagli. Abbiamo rilevato ben 215 episodi di spaccio per un giro d'affari di circa 150.000 euro. I clienti in tutto sono stati 85. Le categorie delle più disparate andiamo dagli imprenditori agli studenti anche minorenni, baristi, artigiani. Insomma, veramente trasversali le categorie interessate dallo spaccio di stupefacente. Le perquisizioni legate agli arresti di oggi hanno permesso di denunciare in stato di libertà un'ulteriore forza empronese per coltivazione di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso in casa con 20 piantini di marijuana. Nel corso delle indagini, invece, i carabinieri hanno scoperto che il furto con scasso ai danni delle slot machine in un bar di Fossombrone era stato appositamente organizzato. Uno degli indagati, d'intesa con il gestore, hanno simulato un furto alle macchinette che il gestore aveva nel proprio bar, proprio al fine di asportare l'incasso e destinarlo all'acquisto di stupefacenti. Importante il dispiegamento di uomini e mezzi dell'arma che ha permesso di rintracciare i soggetti destinatari delle misure. L'operazione, denominata bunker, condotta dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Fano, in sinergia con i militari di Fossombrone, ha dato un altro freno al dilagare del fenomeno dello spaccio di droga. Nel quadro complessivo sono stati contestati 85 capi di imputazione, mentre 22 sono le persone denunciate all'autorità giudiziaria. Un duro colpo al fenomeno dello spaccio nella Valmetauro, che è questa indagine, la quarta, fatta sempre nell'area, e veramente tanti spacciatori attualmente risultano ristretti o ai domiciliari o in carcere.